Qual è invece la fiction in cui hai lavorato? Era una serie che parlava dei mammi, sì, di uomini che si occupavano... Tipo Desperate Housebands Housebands No, ti giuro che era una roba così Di che parlava questa fiction? Dei mammi Mammi? Dei mammi Uomini che fanno le mamme Di uomini che... Sai come li chiamo io? I papà Grazie